buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi tratteremo il tema delle domande di mobilità territoriale e professionale anche perché tra febbraio e marzo del 2022 dovranno essere sicuramente presentate queste istanze veniamo alla prima domanda sono una docente di scuola primaria è possibile fare contemporaneamente domanda di trasferimento e di passaggio di ruolo nei licei per l'anno scolastico 2022 2023 sì ma solo a certe condizioni non deve trovarsi in una situazione di vincolo della mobilità deve avere il titolo di abilitazione per la classe di concorso da richiedere per il passaggio di ruolo deve avere già superato l'anno di prova nel ruolo di attuale titolarità in tal caso la docente potrà fare con due domande distinte la mobilità territoriale alla scuola primaria e il passaggio di ruolo verso la scuola secondaria di secondo grado domanda numero due quali sono gli allegati da inserire nella domanda di mobilità 2022 2023 in caso di domanda volontaria appunto di mobilità territoriale allora il punteggio della mobilità si divide di fatto in tre sezioni quella dell'anzianità del servizio quella delle esigenze di famiglia e quella dei titoli culturali in ragione di questa suddivisione dei punteggi alla domanda di mobilità vanno allegati i seguenti documenti l'allegato dell'anzianità del servizio e dicendo che non vale l'anno in corso l'allegato f della continuità del servizio qualora si abbiano i requisiti dunque almeno tre anni escluso l'anno in corso prestati nella stessa scuola di titolarità la dichiarazione sotto la propria responsabilità di tutte le esigenze di famiglia la dichiarazione sotto la propria responsabilità di tutti i titoli culturali validi per la mobilità territoriale e in ultimo eventuali dichiarazioni sotto la propria responsabilità delle precedenze con relative documentazioni domanda numero 3 quali e quante preferenze è possibile richiedere con una domanda di mobilità territoriale con un'unica domanda di mobilità territoriale si possono richiedere contemporaneamente le preferenze della medesima provincia di titolarità e le preferenze di altre province d'italia le preferenze esprimibili sono quelle puntuali ovvero i codici meccanografici delle singole scuole quelle sintetiche ovvero i codici meccanografici dei vari comuni dei vari distretti e delle province si possono richiedere al massimo 15 preferenze speriamo che queste risposte a tali domande possono essere utili ai nostri lettori continuate a seguirci sul nostro sito web www.tecnica scuola.it e sulle nostre pagine social arrivederci e a presto grazie a tutti